Giovedì 17 settembre, San Roberto Bellarmino. È il 260esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 105 alla fine. Il sole sorge alle 6 e 52, tramonta le 19 e 22. La luna si leva alle 10 e 44, tramonta le 21 e 21. Giovanni D'Aspira introduce l'arte della stampa a Venezia. Nello stesso anno pubblica le Epistole Ad Familiares di Cicerone e subito dopo i libri storie naturali di Plinio. Queste edizioni furono rubate dalle orde napoleoniche. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, Festa dell'Uva a Conegliano. Oltre 300 vini, musica, ballo, spettacoli e rievocazioni storiche. Ospiti i vini autoctoni della Sicilia e la città di Noto. Info, Associazione Dama Castellana. Le previsioni per domani. Tempo variabile con alternanza di nuvolosità e crescenti rasserenamenti. Probabili foschie ed occasionali banchi di nebbia nelle prime ore in pianura. Precipitazioni. Probabilità medio-bassa sulle zone montane e pedemontane, bassa su quelle centro-meridionali, per locali fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime per lo più stazionari e un lieve aumento, massime in leggero calo.